Nella giornata di martedì grasso che conclude la settimana di carnevale tornano a sfilare i carri a cittadella. Per due anni consecutivi era stato il maltempo a segnare questa giornata cancellando conseguentemente l'evento. Quest'anno invece è il sole a farla da padrone. Grande novità di quest'edizione è stato il percorso modificato ed esteso alla cerchia muraria per permettere la partecipazione dei carri di grandi dimensioni. I 14 gruppi sono partiti alle 14.30 da viale della stazione per poi percorrere via riva dell'ospedale del grappa del pasubio e 4 novembre. Premiati infine in piazza Pierobon dall'amministrazione comunale i gruppi e per la categoria carri a trionfare è stato Frankenstein. La giornata di festa continuerà poi a partire dalle 21 sempre in piazza Pierobon con la lettura del testamento e il fuoco alla veccia accompagnati dallo spettacolo piro musicale. Potete trovare il video completo della manifestazione su Zwischenberg Channel Premium o in replica su Zwischenberg Channel Premium 1 venerdì alle 11 e contenuti extra con la fotogallery sul nostro sito internet o nelle nostre pagine social. Zwischenberg Channel News Cittadella